Dottor Riccio, troppe automobili girano senza copertura assicurativa. È la crisi o la mancanza di curanza nei confronti delle leggi? Probabilmente entrambe le cose, però per quanto riguarda i servizi di prevenzione e repressione a questo fenomeno, dobbiamo dire che proseguono giornalmente sia nel corso dei normali servizi di viabilità statale che nel corso di specifici servizi, le cosiddette operazioni atto-impatto, che sono delle operazioni che si concentrano in alcuni giorni e in questi giorni vengono rilevate solo le determinate contestazioni e nel caso specifico ai conducenti che si mettono alla guida di veicoli senza avere la copertura assicurativa. Quanti sono stati riscontrati nella città di Padova ai vostri controlli? Per quanto riguarda l'intera provincia di Padova e per la polizia statale, nei primi sei mesi del 2016 abbiamo contestato 173 violazioni. A differenza del semestre del 2015 che invece le contestazioni erano solo 153. Che cosa si può rischiare non avendo la copertura assicurativa, sia da parte di chi è al volante che di chi subisce il danno? Sicuramente una sanzione amministrativa che va da 1,848 euro fino a 3.393 euro, più una sanzione accessoria che è il sequestro del veicolo, quindi sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. Confisca che si realizza se il conducente non paga l'assicurazione o comunque non l'assicura per almeno sei mesi. Un tecnicismo, una curiosità. Adesso c'è la possibilità di non esporre più sulla parabrezza il tagliando assicurativo, ma per caso c'è l'obbligo a avere con sé comunque il contratto? Certo, è obbligatorio perché la mancanza di contratto comporta un'altra contestazione che è quella dell'articolo 180. In ogni caso è importante perché in caso di accertamento presso la banca dati che ci dà un esito negativo fa fede il contratto che il conducente ha dietro.